La ritorno per il miglior film, Still Life, di Jason Kek. Sono venuto a cercare mia moglie e mia figlia. Vedi quell'erba che spunta laggiù? Là c'è il numero 5. Ma qui c'è solo acqua. Fin G è stata allagata. E gli abitanti? Sono stati evacuati. Alla prossima. Grazie a tutti.